Buonasera, benvenuti. Siamo qui per presentare un libro bellissimo dal titolo Architettura Picta a cura di Sabine Fromel e Gerald Wolff. Il libro contiene contributi di Maria Beltramini, Francesco Benelli, Howard Barnes, Christopher Riott Fromel, Sabine Fromel, Phyllis Hellas e Gerald Wolff. Dicevo un libro straordinario anche se immediatamente se ne percepisce la mancanza di un prossimo, come direbbe Blanchot, un prossimo libro a venire che vada possibilmente da Tiepolo alla contemporaneità. Penso che il modo come è stato interpretato dai due curatori e dai contributi, il senso di rilettura del valore dell'architettura e della collocazione dell'uomo nello spazio dal tardo medioevo in particolare fino al 600 e in particolare in tre aree, in area veneta, in area toscana e in area romana, abbia bisogno di una propria continuità con quanto è successo poi dal 700 in poi. Penso allora, al di là delle mie predilezioni per la modernità, penso all'esperienza della quinta triennale di Milano del 1933, dove il contributo di Corrado Cagli, di artisti come Sironi, ma fino a quella del 1936 è stato fondamentale per capire queste trasmigrazioni, come si dice, la permeabilità che legava allora i diversi settori artistici, i maestri avevano competenze in più di un mestiere e si esprimevano in modi e in tecniche diverse secondo un'osmosi prefigurata. Ma questo è anche il senso di appartenenza e la necessità di questa presentazione all'Accademia di San Luca, che giustamente ha una propria riconducibilità al dibattito della fine, della prima metà del Cinquecento, a proposito delle diatribe nate dalle elaborazioni del Varchi, su quello che verrà definito il paragone, il primato tra pittura, scultura, architettura, e che in qualche modo hanno segnato la nascita con Zuccheri dell'Accademia stessa di San Luca. Io non voglio dilungarmi oltre, il volume ha talmente un'estensione generale che per forza di cose ha dovuto escludere, ecco io avrei immaginato di vedere dare molto spazio alla camera picta di Gonzaga di Mantegna, avrei sperato di sapere cose sulla camera di Fontanellato, la camera della Badessa tra Parmigianino e Correggio. Ecco, tutto questo invece è in subordine rispetto al rapporto tra lo spazio e le figure che, diciamo, in qualche modo animano questo spazio. Allora mi viene da pensare che sia necessario uno sforzo ulteriore, se penso al politico di Mantegna per la Chiesa di San Zeno, il rapporto tra la soasa, la cornice esterna architettonica e il trittico, diciamo, diventa un ulteriore tema di approfondimento, è un tema che necessita di alcuni chiarimenti. Ma, ripeto, il materiale è talmente straordinario, talmente ampio, che è difficile, va considerato per cui questo libro l'avvio di una straordinaria avventura e che necessita di straordinari ulteriori approfondimenti. Ricordo che questo sano, forse una frattura, perché c'era chi aveva tentato nell'88 un libro un po' più di figure, penso al volume della Massobrio, sullo spazio, sull'immaginario architettonico nella pittura, pubblicato dalla Terza, dove si faceva più riferimento, diciamo, alla trasmigrazione del senso dell'architettura come immaginario collettivo. Ecco, qui si riconduce il senso dell'architettura anche nella sua possibilità prefigurativa, vale a dire, dalle tavolette di Giuliano da Sangalo, quella di Baltimora, quella di Berlino o quella di Urbino, in poi, si capisce quanto l'architettura dipinta possa contribuire anche a cambiare il senso avvenire come promessa di ulteriori architetture. Spero di non essermi dilungato troppo. La parola a Francesco Di Teodoro. Grazie.